Tutto è iniziato proprio qui. Lei è Sara. Si trova alla fondazione Allice per fare il test salivare dell'HIV. Il test risulta positivo e fu lì che si pentì dell'errore che ne sta cambiando la vita. Sentendosi sbagliata, diversa, presa una decisione affetta. Allice per fare il test salivare dell'HIV. Questa era una lettera scritta da Sara, dove chiedeva di fare un video per sensibilizzare le persone alla malattia. Siete ancora in tempo per cambiare il vostro futuro. Svegliandemi! Svegliandemi! Grazie a tutti